Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti e da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Circa 30,9 milioni di euro, di cui 29.200.000 euro per la ricostruzione privata e 1.700.000 per interventi pubblici. E il costo per l'attuazione del piano di ricostruzione del centro storico di Sampio delle Camere, predisposto con il supporto tecnico-scientifico dell'Università di Pisa. Il nulla osta è stato sottoscritto presso l'ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma. Il piano completa, con quello della frazione di Castelnuovo, la programmazione economica della ricostruzione dell'intero comune. Un risultato estremamente importante che ci conforta nella nostra scelta di investire risorse sia per equipaggiare il CFA di strumentazioni e tecnologie sempre all'avanguardia, sia per dotarlo di personale idoneo. Lo ha detto l'assessore alla protezione civile della Regione Abruzzo, Mazzocca, sulla verifica ispettiva da parte dell'ente certificatore IMQ-SPA, a seguito della quale il centro funzionale ha ottenuto la ricertificazione del sistema di qualità fino al 27 febbraio 2016, risultando conforme alle norme in vigore, per fornire quattro servizi, allertamento rischio idrogeologico, allertamento meteo, allertamento rischio incendi boschivi e pianificazione emergenza. La gravissima situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio di Montesilvano va affrontata con tempestività e decisione. Per farlo occorrono quelle risorse che, nonostante le rassicurazioni verbali, il Presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, e la sua giunta, sembrano continuare a dirottare altrove. Per tale ragione ho presentato al Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio un'interpellanza che obbligherà l'Esecutivo regionale a dare risposte concrete e definitive, non solo a Forza Italia, ma a una popolazione in ansia per quelle frane che minacciano abitazioni e cittadini. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Sospiri, la cui interpellanza sarà discussa il prossimo 10 marzo. Un viaggio speciale dedicato all'agricoltura e all'alimentazione di qualità di Il Treno Verde, storica campagna nazionale di Regambiente, Gruppo Ferrovie dello Stato, cambia a declinazione in vista di Expo Milano 2015. Il convoglio, come ogni anno, farà tappa anche in Abruzzo. Appuntamento a Pescara, giovedì e venerdì, al binario 1 della stazione centrale. Il motto di quest'anno è «Tornare alla terra per seminare futuro», proprio per sottolineare l'importante ruolo dell'agricoltura di qualità e delle buone pratiche ambientali e sociali. E in vicepresidente della Giunta regionale, Lolli ha convocato per domani alle 9, presso la Sala Celestino di Palazzo Silone all'Aquila, un incontro istituzionale per affrontare la situazione e le prospettive dei lavoratori delle aziende del gruppo Edimo, dopo l'avvio della procedura fallimentare disposta dal Tribunale di Roma. Nuovi rilievi stamattina alla luce del giorno da parte dei carabinieri di Avezzano, coordinati dal tenente Tarantini sul luogo dell'incidente all'Istituto Geometri Alberti di Avezzano, dove ieri pomeriggio un operatore scolastico di 58 anni ha perso la vita, schiacciato da una pressa, mentre un collega cercava di spostarla. Un minuto di silenzio è stato osservato dagli alunni dell'Istituto. Sono in stato di fermo per circa dieci giorni, sono stati in stato di fermo per circa dieci giorni, poi ieri alla fine di un'udienza sommaria sono stati trasferiti in carcere i due italiani trattenuti in Gambia, la cui nave da pesca è finita sotto sequestro per la presunta violazione delle dimensioni delle maglie di una rete presente a bordo ma non utilizzata. L'udienza è stata definita sommaria da chi ha ricostruito la vicenda, cioè la Italfish SRL di Martinsicuro, contattata dall'agenzia giornalistica ANSA. La Italfish è una società armatrice dell'imbarcazione iscritta a Mazzara del Vallo in Sicilia e con base operativa in Senegal. Dalla valorizzazione delle tipicità, le fiere nazionali e internazionali in Asia e Sud America, dai cibi salutistici al packaging ecosostenibile, dalla tracciabilità alimentare all'etichettatura dei prodotti e alla tutela della loro freschezza. Senza dimenticare le collaborazioni con università e centri di ricerca, il riuso di scarti e reflui per produrre energia, i coloranti naturali, le nuove qualità di grano e tra breve la giornata europea di valorizzazione dei prodotti tipici. Sono tanti i progetti realizzati o avviati da agire, il consorzio di 120 piccole e grandi imprese che da cinque anni gestisce il polo di innovazione agroalimentare d'Abruzzo con il risultato di aver reso il comparto più forte e in grado di competere nel mercato globale. La cultura Giorgio Albertazzi in scena all'Aquila giovedì alle 21 e venerdì alle 17.30 del teatro comunale per la stagione aquilana del teatro stabile dell'Aquila con il mercante di Venezia di William Shakespeare. Con lui Franco Castellano, Stefania Masala, Paolo Travisi, Francesco Maccarinelli, Diego Macello, Ivana Lotto, Cristina Chinaglia, Simone Vaio, Venina Marini, Alessandra Scirdi, Erika Puddu, Francesca Annunziata e per la regia di Giancarlo Marinelli. Si è riunito ieri sera a Montesilvano alle 21 per la prima volta il forum di discussione sull'Atari. Hanno partecipato la consigliera Valentina Di Felice, presidente della commissione bilancio, la commercialista Maria De Vita e i cittadini Andrea Di Blasio, Luca Verrocchio e Ivan Di Sante. Nello specifico, nella riunione di ieri, è stato spiegato il funzionamento dell'imposta sui rifiuti. Sono state fatte alcune riflessioni su quella che costituisce la fonte di tale imposta, ossia il contratto con la Tradeco. Il prossimo incontro si terrà martedì 17 marzo alle 20 in un luogo che verrà comunicato in seguito. Siamo al meteo stasera su Pescara e Provincia. Si prevede cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 9 a 11 gradi e venti deboli. Domani si prevede pioggia con temperature da 7 a 17 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono, una tascia alla parte tecnica. E da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie, a risentirci. Grazie. 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 Grazie.